Seconda parte di fatti e commenti, do il benvenuto al collega Luciano Murgia. Grazie Camilla, molto gentile come sempre. Andiamo sui siti, un paio di notizie da cronachepicene.it sulla sanità, ospedale di comunità, la denuncia di nursing e USB, nuovi servizi ma senza personale. I sindacati ad Ascoli, non solo Pelosi e Giuliani e non solo del comparto, da tempo segnalano i tagli dei letti e degli infermieri. La risposta della direzione AST punta sempre sulla parola riorganizzazione. Al cittadino non resta che assistere impotenti, speranzosi ma anche dubbiosi e preoccupati. È ora di fare chiarezza sulla sorte degli ospedali piceni e sulla base di scelte che non siano condizionate da dinamiche politiche o peggio, territoriali. E ancora andiamo su laprovinciadifermo.com Tutti in piazza ad ammirare la moda made in Ipsia, sfilano i modelli realizzati tra i banchi. Serata di moda e bellezza in piazza del popolo a Fermo. Gli alunni della sezione moda, abbigliamento e calzatura questa sera presentano le loro creazioni. Una collezione di abiti e scarpe che reinterpreta in chiave moderna i caratteri stilistici di attrici divenute icone nella storia del cinema. Quindi una buona notizia che va a differenziarsi dalle notizie che abbiamo dato in precedenza di incidenti, qualcosa sullo sport. Parliamo di Grotta Zolina, la grande occasione di Marchisio, il libero della Iuasa da Superlega. Per la prima volta sempre capopopolo ma nell'Olimpo sarò più calmo, dice il ragazzo di Grotta Zolina. Andrea Marchisio non resta perché sotto contratto ma perché è forte e pronto per il salto di categoria. Non ha mai avuto dubbi su questo, coach Ortenzi in bocca al lupo dunque alla Iuasa Battery per la sua prima stagione in Superlega. Veniamo da Luciano Murgia che sportivo lo è di mestiere non solo. Tu sei in pensione da qualche anno dopo una lunga carriera, sei stata una grande firma dello sport ma anche della cronaca. Continui a scrivere, questa è una passione come quella di camminare. Sì, mi fanno compagnia entrambi, rendono la pensione più gradevole, non sono uno che ama perdere tempo giocando a carte così o altre cose. Preferisco camminare, leggere e quando posso anche scrivere. Hai completato 5 cammini di Santiago e in Italia la via degli dei e hai scritto libri su questo argomento. Hai anche dei consigli da dare immagino. Sì, ho scritto un libro, il titolo è I cammini dei sogni perché rappresentano i sogni che io ho coltivato per tanto tempo. Sono 5 cammini da diversi siti spagnoli sino alla meta di Santiago, quindi sono partito per il francese da Saint-Jean-Pierre-du-Port, per il portoghese da Porto, per l'inglese da Ferrol, per il primitivo da Oviedo e infine per quello del nord da Irun, dalla frontiera francese. Sì, consigli, io credo che non sono in grado di dare consigli, posso dare una spinta, un messaggio di provarci. Io credo che sia un'esperienza bellissima. Poi ovviamente essere un po' preparati senza fare i presuntuosi come ho fatto io la prima volta che ho rischiato di non partire. Io credo che se uno ha voglia riesce ad arrivare a Santiago. Poi si dice, lo ha detto un grande scrittore Paolo Coeglio, dice quando le gambe non vanno vai col cuore, cammini col cuore. Bellissimo. Questo è l'unico consiglio che mi sento di dare ma credo che tutti quelli che camminano sanno bene che è un po' di sacrificio ma è anche un piacere enorme. La prima volta è stata nel 2016, memoria della tua mamma scomparsa da poco. Sì, 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 mia mamma era morta esattamente un anno prima, il 5 aprile, il giorno di Pasqua del 2015, ho deciso di provare a farle un omaggio, a rendere un omaggio, a ricordarle in qualche maniera tangibile, non soltanto con i pensieri e sono partito sperando di arrivare a Santiago di Compostela, sono riuscito ad arrivare, è stata una gioia immensa proprio perché era dedicata a lei. Poi alle mamme siamo tutti legati, noi italiani siamo molto mammoni e quindi quando la signora che metteva il visto sull'ultimo seglio, il timbro sulla mia credenziale, ho detto che avevo fatto il cammino in memoria mia mamma, mi ha guardato con grande entusiasmo, la signora che aveva una certa età, sicuramente più di me, e ha detto proprio un buon sentimento, lo ha detto con grande affetto, io l'ho accolto con grande gioia pensando a mia mamma. Hai visitato dei posti bellissimi, ricordi, curiosità? Sì, ho visitato tutta la Spagna del Nord, io in verità la Spagna la conosco discretamente perché per tanti anni sono andato in Spagna, in verità quasi sempre a Barcellona Madrid con la Scavolini Basket, la Scavolini quindi in Spagna era quasi obbligatorio giocare, un anno nell'88 il McDonald's Open di Madrid, quindi quasi una settimana lì con i Boston Celtics da Jugoslavia, il Real Madrid di Dražen Petrovic, due anni dopo Barcellona con i Knicks, eravamo una squadra bellissima allora, la VL era una squadra bellissima, abbiamo rischiato di superare anche i Knicks, fumo derubati da un arbitraggio dell'arbitro americano, in verità abbastanza mediocre. E' un video tantissimo la tua memoria, tra le altre cose. Almeno questo, è più facile avere memoria di tanto tempo fa che dei giorni scorsi. Tu hai fatto un cambio di vita notevole, smettendo di fumare hai guadagnato tanta salute. Sì, purtroppo sì, sono stato un fumatore incallito per tanti anni, per troppi anni, ho pagato a caro prezzo il fumo perché il fumo ti fa star male, poi ho deciso di cambiare vita, di cambiare stile di vita e sì, ho pensato che stavo facendo una follia, cioè spendevo ogni giorno per farmi del male. Dice, tu spendi per star meglio. E' vero. Il primo anno sono andato in vacanza, mi sono pagato la vacanza con le sigarette non fumate. Questo per dirti quanto sarebbe importante smettere di fumare, di farsi del male. Camminare fa bene, lo sport in generale è un toccasana. Camminare è molto bello. Camminare, tu sei una, diciamo sei una grande atleta, giochi a tennis, corri. A me piaceva correre un tempo, però quando corri devi stare attento molto alla strada. Quando cammini puoi stare attento anche a quello che ti circonda. A meno che non passino le auto, i motociclisti o anche i ciclisti che spesso invadono i sentieri dei camminatori. Però ti dà una grande sensazione di libertà. Devo dirti, il primo giorno, il mio primo cammino, partendo da circa 150-180 metri di quota, arrivando a oltre 1450. E quando ero su solo, guardando i Pirenei, dicevo ma che meraviglia, che cosa mi sto godendo. Che cosa ho perso prima a non farlo. Bellissimo senso di libertà oltretutto. Due anni fa sei stato a Passaggi Festival con Alex Svazer, campione olimpico della 50 km di marcia. Poi la scorsa estate con il tuo libro, quello raccontato dai tuoi piedi, no? Sì, sì, questo qui. Sulla vita. Sì, perché in verità il libro l'ho scritto io, ma lo raccontano i miei piedi, ai quali ho dato nomi baschi, proprio perché quando entri nel paese basco in Navarra, la prima cosa che leggi quando arrivi in una città c'è scritto Onghi e Torri, che in verità la pronuncia sarebbe Onghi e Torri, per dire benvenuto. Io ho deciso di dare questi nomi ai miei piedi, Onghi il sinistro e Torri il destro. Sì, sono stato a presentare due edizioni fa il libro di Alex Svazer, è un amico, tra l'altro lui ha firmato anche la prefazione al mio libro. L'anno scorso ho presentato il mio libro, devo dirti che oramai mi considero quasi stanziale, non più di passaggio o di passaggi, perché quest'anno presenterò un libro. Sì, aspettiamo a dirlo quando ci sarà il programma completo, però il 30 di giugno sulla carta dovrei presentare un libro. Non tuo? No, 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 sarò il presentatore di un libro che mi intriga molto, ma credo che si potrà parlare in seguito, aspetto che sia passaggio a ufficializzare tutto. Sei nato in Sardegna, ma vivi a Pesaro da 55 anni, ti senti marchigiano immagino. Senti, qualche giorno fa sono stato a Rosora, ospite di un nostro amico e collega Giovanni Filosa che presentava un mio libro in un'edizione bellissima, si chiama Burghi della Cultura. Prima di arrivare a Rosora sono stato a Staffolo a fare il pieno di vini e osservavo queste colline meravigliose. Da Rosora in alto vedi questa valle fantastica. Ti brillano gli occhi, sei proprio innamorato di quei territori. Io sono innamorato delle Marche. Quando è morto mio padre nel 1969, in poco tempo ci siamo ritrovati a Pesaro, dove già abitavano molti miei zii, molti miei parenti. E non sapevo che cosa mi avrebbe riservato il futuro. Posso dire di essere stato, nella disgrazia, affortunato di venire a vivere in una regione bellissima. Io sono innamorato delle Marche, dal mare alla collina, ai monti. Soltanto la Toscana credo che possa essere paragonata alle Marche per questa completezza. Secondo me le Marche non sono una regione, sono mille regioni, infatti sì, le Marche. È vero, l'unica al plurale. Beh, siamo a spot vivente. È nel, come volevano le leggi del periodo, ti assunsi al posto di tuo papà, ho letto in un'intervista, ma tu rinunciassi al posto fisso per dedicarti appunto alla tua passione. Sì, mio padre lavorava in miniera, morì per dipneumoconiosi, si dice più facilmente i silicosi, cioè i polmoni neri di carbone. E essendo dipendente dell'Enel, questa tragedia diede il diritto, per fortuna, a una discreta pensione a mia mamma, ma anche all'assunzione di un congiunto. Io ero il più grande, mia mamma non voleva, voleva che io terminassi l'università, finissi l'università, però sai, rinunciare ad un posto così non era facile. Entrai all'Enel ma non mi piaceva, ho il massimo rispetto per chi continua a lavorare all'Enel, ma io ero nato, volevo fare giornalista fin da bambino e quindi alla prima occasione mi sono licenziato senza avere un posto ancora. Ho detto, beh, con la liquidazione, mangerò la liquidazione e poi andrò a lavare le scale, che è un mestiere come un altro. Invece per fortuna sono riuscito ad avere opportunità e quindi ho fatto il giornalista. Sei ispirazione anche in questo. Hai lo sport nel cuore e nel DNA, segui la VL da molto tempo, quest'anno è stata dura. Sì, è stata molto triste, però prima o poi, sai, quando stai sempre sull'oro del precipizio rischi di cadere. Per diverse stagioni la VL è stata sull'oro del precipizio, una volta è stata salvata dal Covid. Per fortuna non abbiamo un Covid ogni qualche anno, perché mi viene da ridere, io pensavo che il migliore americano della VL negli ultimi anni è stato Mac Covid, perché ci salvò lui, una vittoria soltanto, non mi pare. No, però prima o poi succede. Non è una disgrazia, non è una tragedia, ci sono cose molto più preoccupanti nella vita. Certo che per una città che è innamorata di basket, per chi come me e come noi è innamorato di basket, è stato un duro colpo. Ho già fatto l'abbonamento a LNP Pass per capire meglio cosa ci aspetta l'anno prossimo, ma oggettivamente avrei preferito continuare a guardare la VL su altri canali, su TVRS. Sì, esatto. Non è semplice risalire subito, no? E come valuti anche l'ingaggio di coach Sacripanti, la prima mossa? Devo dire la verità, io negli ultimi anni le scelte degli allenatori non le ho condivise, a parte i banchi. All'inizio mi sarebbe già impossibile giuricarlo negativamente, però non mi piacciono come comportamenti, come atteggiamenti. Era con noi, poi firma con la fortitudo la mattina dopo. E non avrei preso Buscaglia, non l'avrei mai preso, perché lui per anni ha detto no alla VL. E io mi sono sempre detto, ma chi sei tu? Per dire no a una società che è la storia della pallacanestro italiana, chi sei Buscaglia? Invece l'hanno preso, però finalmente ci ha detto sì, grazie. Non lo voleva più nessuno. E non avrei preso neanche i sacchetti, onestamente, perché passare da Buscaglia a sacchetti era il giorno e la notte. Hanno dovuto cambiare tutto, troppo. E vediamo, pazienza, è andata così. E tu l'hai detto in tempi non sospetti, prima della retrocessione. Sì, sì, io sai, non mi piace fare il grillo parlante, però ho visto, vedevo troppe cose che non mi convincevano. Non mi convincevano e purtroppo, però non è che gioisco, ci mancherebbe altro. Sono dispiaciutissimo. Devo dirti che la sera lì della retrocessione ero in vacanza, in Sardegna per lavoro, perché sto facendo delle ricerche per il mio prossimo libro. Ed è stato triste. Sono andata a cena con un mio caro amico che tra l'altro scrive di basket, scrive su Pianeta Basket. Ha scritto un bellissimo libro sull'NBA, un romanzo ambientato nell'NBA e sono stata a cena con lui, ma non ho una gran voglia di parlare di pallacanestro. Ero veramente triste. Ci puoi dare qualche anticipazione sul tuo prossimo libro? È un libro che riguarda, è il sogno della mia vita. Se i cammini erano i cammini dei sogni e questo è il sogno della mia vita. Raccontare come vivivano le famiglie di minatori. Mio padre lavorava in miniera e poi mia madre ovviamente si sono sposati nel 1947, hanno vissuto una vita non facile. Puoi pensare a mia madre che vita ha vissuto se è rimasta a Vendova a 45 anni con tre figli, tre figli non grandi. Quindi il sogno della mia vita è raccontare questo. Buon lavoro allora, ti leggeremo. Grazie, grazie, molte grazie. Tu hai scritto dietro i canestri per raccontare tanti aneddoti della VL, anche i tuoi viaggi, ne parlavi prima. Ma specialmente quando si disputavano le coppie europee, c'è un aneddoto che ci vuoi raccontare? Guarda, è una cosa triste. La mia prima trasferta a Gerusalemme, no, era la seconda trasferta, perché la prima andavamo al confine, a che fargi la dì, a Criat Cimona, al confine con il Libano, ma fu toccati i fuga, arrivamo lì col pulmino, poi ritorniamo all'aeroporto della vita e torniamo a casa, vediamo soltanto la frontiera. E vediamo anche dove erano arrivati i kamikaze palestinesi per colpire questo gibuzzo. La seconda volta invece in Coppa dei Campioni era a gennaio del 1979, sì, 1979, è capitato a Tel Aviv, qualche giorno prima della nostra partita, perché allora il capo dello sport della Gazzetta di Pesaro mi disse se si puoi parti, vediamo se riesci a rimediare qualche notizia, qualche informazione, perché il Maccabi organizzò un amichevole con la fortitudo Bologna, allenata da Moro di Vincenzo. E con loro, al mattino mi disse, vieni con noi a Gerusalemme, a Betlemme, cavolo. E andai con loro a Betlemme e vidi una scena tremenda. I soldati israeliani, molto giovani, avevano legato con le fascette le mani dietro la schiena i bambini, i ragazzini palestinesi che erano bendati. Mi diede un grandissimo fastidio e ho pensato che in quel momento, sono trascorsi tanti anni, che quella terra lì non avrebbe mai avuto pace, di fatti. Sì, è stato così. È una grande tristezza dirlo, perché ho carissimi amici israeliani, ma contemporaneamente vorrei che ci fosse pace per tutti. Ci stai facendo spaziare un po' in tutti gli ambiti, baseball, football americano, volley, tu hai seguito un po' tutto, sei sempre stato un grande osservatore, uno sulla notizia, soprattutto quando non c'erano i mezzi tecnologici di oggi. Allora era un sacrificio, era un sacrificio, ricordo, alle notti in bianco per chiamare dalla radio o dal giornale in America per capire che cosa succedeva. I miei amici informatori americani, uno di questi era Don Casey, che tu sai benissimo chi è, è stato allenato per qualche mese pesa, poi è allenato anche ai Celtics, ai Nets, ai Clippers, mi chiamava alle tre del mattino per chiedere informazioni e gli dicevo Don, sai benissimo che tu sei adesso, sei a Los Angeles, adesso a San Diego, abitavi vicinissimo a Bill Walton, a casa di Bill Walton, che è morto qualche giorno fa purtroppo, quindi non era facile, bisognava chiamare di notte quando ritornavano a casa i procuratori, non era agevole seguire le vicende, adesso con internet è molto più facile, oggettivamente sì. Il giornalismo attuale dunque è molto diverso da quello di una volta. Eh sì, internet ha cambiato tutto, adesso l'immediatezza della notizia, tu aspettavi per avere la locandina il giorno dopo, mi ricordo quando prendemmo Workman e io feci l'ultima telefonata agli 10 di sera e lui stava arrivando per prendere l'aereo a casa del suo manager, del suo agente, si chiama Frank Catapano e mi diede la notizia che era in partenza, quindi ero felicissimo. La mattina dopo il Corriere Adriatico aveva la notizia in esclusiva che Ed Workman veniva a Pesaro, adesso se l'ho imparata di sera alle 10 e 3 quarti ci sono già tutti i siti che là ce l'hanno gratis. Sì, 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 un po' più semplice diciamo. Sì, direi di sì. Ancora qualche sito, andiamo su rivieraoggi.it, una notizia da Osimo, grande Pino cade sulla strada e la blocca completamente. La cronaca ci porta appunto a parlare dei Vigili del Fuoco che hanno proceduto a tagliare l'albero per ripristinare la viabilità, successo ieri in tarda serata. E poi ancora Ancona Today dove si sottolinea ancora ovviamente la crisi dell'Ancona Calcio, il crack, ancora il sindaco Daniele Silvetti che dichiara a Tiong svanito insieme al milione di euro che doveva al comune. Caos Ancona, parlano anche i tifosi, la delusione, ora basta, sono svuotato, forse vendo tutti i Vesilli del bar, davvero un momento difficile per questa squadra marchigiana, la squadra del capoluogo che ha vissuto tante peripezie anche in passato. Torniamo su UTVRS, il nostro portale è sempre sullo sport, Ascoli, chiederemo alla nuova società di fare pulizia. Ancora i tifosi, il Tras 1898 che intervengono sulla questione Ascoli Calcio. Un po' di problemi in tutte le province e poi ancora la cronaca in evidenza, sversamento di liquami abusivo in mare, sindaco di vieto di balnazione preventivo, siamo a Macerata e lutto nel mondo del ciclismo marchigiano è morto Gaetano Petta, il ricordo della società del pedale chiaravallese 024 Cycling Team. Bene, il tempo stringe, purtroppo non posso farti altre domande Luciano ma tornerai sicuramente, avremo altre occasioni. È tutto per la puntata di oggi, giovedì 6 giugno 2024, di fatti e commenti. Grazie di cuore al giornalista Luciano Murgia per essere stato con noi. Grazie, grazie a voi, grazie a TVRS. Un grande piacere, un grande onore. Grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento con la rassegna stampa serale di TVRS è per domani alle ore 23, sempre sul canale 13. Buonanotte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.